Solo due nuovi casi di positività al covid, ieri in provincia di Agrigento, su 356 tamponi processati, 29 guariti e un nuovo ricovero. Resta dunque sotto controllo la situazione nell'Agrigentino, dove la curva epidemiologica continua a scendere. A sciacca le persone contagiate continuano ad essere sette. Nessuna guarigione a Santo Stefano Quisquine, di conseguenza anche qui resta invariato il numero dei positivi, che sono ancora 37. 13 a San Biagio Platani, 2 a Santa Margherita Belice, 13 ad Agrigento, 1 ad Alessandria della Rocca e Bivona, 83 a Canicattì, 3 a Favara, 108 a Licata, 4 a Menfi, 40 a Palma di Montechiaro, 3 a Porto Empedocle, 10 a Raffadali, 38 a Ravanusa. Covid-free i comuni di Aragona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Ioppolo, Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Ribera, San Muca di Sicilia, Sant'Angelo, Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana e Villa Franca Sicula. In ospedale ci sono 9 pazienti ricoverati in degenza ordinaria al San Giovanni di Dio di Agrigento e 1 al Covid Hospital di Ribera. Nessun ricoverato nelle terapie intensive. A livello regionale il contagio da coronavirus rallenta in Sicilia ma l'isola anche ieri è stata la prima regione in Italia con il più alto numero di nuovi casi giornalieri, 163 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 7 le vittime, il totale dei decessi è così salito a 5.912. In ospedale ci sono al momento complessivamente 358 persone di cui 39 in rianimazione, il giorno prima erano 47 e 319 in area medica, il giorno prima erano 310. I guariti ieri sono stati 154, il numero delle persone attualmente positive è di 6.631 delle quali 6.273 in isolamento domiciliare. I tamponi processati ieri sono stati 9.911 con tasso di positività all'1,64%. Sono dati comunque tutt'altro che preoccupanti ancorché la regione continui a registrare il più alto numero di nuovi casi giornalieri e a meno di sorprese da lunedì prossimo la Sicilia dovrebbe passare in zona bianca. L'incidenza per due settimane è stata sotto 50 ogni 100.000 abitanti e così, mantenendo questo trend anche per i prossimi giorni, la regione dal 21 giugno prossimo dovrebbe unirsi alle tante che sono già passate in bianco.